Let's go! Voglio fare una piccola intro a questo video perché voglio spiegarvi alcune cose da che questo è un video competitive molto bello, sì, di Esports, sì, di Electronic Sport Praticamente stiamo giocando la ladder di Game Battles Io, Lama, Rampage, Relix, Mazzo, TheReal, Gabri, Hybrid, che mi manca Evolve Cioè siamo tantissimi in questo gruppo, pure Mario che si deve ancora comprare la PS4 E ci piace divertirci con il competitive che è una cosa comunque divertente, sempre nuovo, ogni match è sempre diverso E questo match ragazzi è bellissimo Stiamo parlando in inglese perché ho fatto entrare nel gruppo il mio vecchio compagno di team TheReal Che molti di voi che mi seguono sul canale da novembre conoscono Sono un giocatore fortissimo, una bestia per chi l'ha visto giocare contro il Millennium LGL, eccetera, eccetera Quindi parleremo in inglese, mezzo italiano, un po' di inglese maccheronico, però sarà molto divertente Spero che vi piacerà lo stesso il video anche se non è italiano Ragazzi, il match al cardiopalma In questo match che andrete a vedere ci sarà un misto di emozioni, di gioia, felicità, di quando ci casiamo Di quando siamo contenti di quello che facciamo, di quando ci arrabbiamo, di quando le cose non vanno bene, non funzionano Quindi tutti questi sentimenti positivi e negativi che si mischiano in un match Che è una cosa bellissima E oltre a questo vedrete che quando sono in partita mi capita questa cosa che mi sta succedendo da settimana Cioè che c'è queste persone che mi buttano, cioè cercano di mandarmi offline la connessione Io fortunatamente non sono riuscito a farmelo, questo perché sono riuscito a trovare delle misure, delle contromisure per difendermi In questo caso grazie anche a Netgear che è un mio sponsor Mi ha mandato questo qui che ora vi faccio vedere Che è il router Nighthawk, il D7000 E grazie a questo router sono riuscito a mettere un'opzione che ora è molto più difficile butterarmi È un ottimo router perché mi consente anche in questo caso di mettere quanta banda voglio mandare alla Playstation Quanta voglio mandare al PC Quindi posso anche settare la banda come voglio io Quindi anche per magari non avere la cosiddetta LACOMP che è un problema di Call of Duty In cui vi spiegherò poi in un video sulle connessioni Non vi preoccupate lo farò Questo è il router, pare uscito da Robocop Veramente guardate cos'è, è enorme Questo ora l'ho staccato, infatti sono offline a fare questo video Comunque ragazzi, quello che vi voglio dire è che Grazie fortunatamente a questa Sineat Gear Ora è molto più difficile che la gente mi butti lì la connessione Devono avere dei programmi o comunque delle connessioni molto più potenti E molti di questi programmi costano soldi Quindi magari molta gente ci rinuncerà Comunque io spero vi piacerà questo video Lasciate un like perché ci tengo molto a questi video di Competitive Ringrazio tutti questi ragazzi che siamo più o meno 9-10 In questo gruppo di EGB che stanno giocando E mi danno la possibilità di fare video, streaming E di far conoscere e ampliare il mondo del Competitive Ormai è TheGod4 che sto cercando di farlo Le cose sembrano andare un po' meglio Io vi saluto e lascio al video Spero vi piaccia Cosa vuoi fare in Defensa? In Defensa Un'altra persona A E poi tre persone B Un'altra persona dietro la roccia Un'altra persona sul cliff E un'altra persona dietro a l'altra Quindi io vi saluto dietro a l'altra Tu devi solo fare il bait Non devi per forza fare la kill Va bene, pure se non killi nessuno Sì, usalo Sì, buon lavoro Oh, man Sì, sono guardato il cliff 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 Sì, sono guardato così fasto Sì, sono guardato il cliff Sì, sono guardato il cliff No, no. Noi sono guardato in B Oh 1 middle 1 middle 1 middle 1 middle Oh my god Uuuuuhm Ok, non preoccupi Sì, no Velo, io normalmente Uh, go check B From middle Uh, ok Ok, ok Yeah, if you wanna do that That's fine Ok So then me and Gio Can go there Ok ok Mi ha distrutto con un M8 Si, non ho capito come Ok, cosa vuoi fare? Ok, andiamo insieme, andiamo insieme come possibile As fast as possible Rampa, guarda sopra Tira un trofi, albe Flashe, flashe Kill him, kill him, ragazzi Ivan, non chaleggiare E' qui, e' qui sopra E' qui sopra, è qui sopra Cliff, top cliff Nice Ok, ok, ok Ok, ok, maybe he's flanking, ragazzi Go together, go together Play top pass? Go together, go together Be backing off, I think Mhm No Oh my god Nice Oh my god, albe Oh my god Nice guys Um You know what, I'm trying to run this time To the far left And trying to kill the guy that will jump toward us Or maybe I don't know what should they do really I don't know I don't know I don't know I don't know what should Come on I'm going I'm going to be Yeah, from middle From middle Ok, Geo, go cliff and I'll watch over you Ok I'm going cliff, ok I'll EMP him to try and slow him down Yeah, I'll try to use my flashbang Oh man I didn't flash them Ok, just watch your back here My trophy Oh fuck, I'm dead I'm dead I didn't know I didn't know it was there It was far left I didn't see him Lama lava Go away, go away Go away, go away You got street Middle, 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 albe Behind the tank Dietro il tank L'hai sentito, albe? Vai, Ivan Merda grande, Ivan Dietro di te, dietro di te, albe Attento Scappa, scappa Bravo Bravo, albe Baitalo Lascialo, lascialo Ti deve pushare ora Eh, I got an ACA-63 Do you have to use it? No, no no Don't use it The bomb is middle Ok, the bomb is middle You stop flunking No, no no, Ivan No, no Scappa, scappa Scappa, Ivan He's got the kill Bravo, Ivan Go, Ivan Nice, guys On A, on A, on A È in middle Bravo, Ivan Ok, nice Good job, guys Grande, Ivan Guys, it's really hard to mi prendo il B per me Gio, devi andare in un'altra parte Sì, dovrei 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 sentire un'altra parte Non so, posso dire che ho un'altra parte La grande parte Oh, per me Ok Sto, ho usato il sniper Ho un'altra parte Ho un A60 Usa, usa, usa Usa, usa A60 A60 No body behind rock Watch top right Ok, buono Un'altra parte Guardate in B Guardate in B Guardate in B Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte Buongiorno 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 Albe, se ci... Oddio, oh my god, ero vicino a uccidere qualcuno F**k sake I think now... They go in A What the hell? Man, they are so fast Uno davanti a Mina Uno lato destra, Albe Oh, he's flanked, what? Oh no, Ivan, no I don't know why Uno dietro di voi L'hai visto correre? Uno a destra, Ivan? Uno dietro di voi, eh? Ah, uno dentro B, uno dentro D E' uscito fuori Ah, maio, maio, maio Maio, maio, maio Ah, so... I, I don't know what to do I think he used overdrive this time, eh Javed Ah I think, I think he used overdrive I think he used Uh... Pfff... Se vuoi usare overdrive Usalo ora No, uso su B Quindi, velocità o da middle? Yeah, yeah, yeah Va, 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 velocità Come vuoi te? Dimmi te come preferisci Andare da middle? Passo la B, passo la B, passo la B Ok, ok, ok Prendi la bomba Go, 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 Albe No, man No, man I'm in sand Flash, flash, flash Flash, flash Oh my god The one in... Top, top Top right Got him There's one inside There's one inside There's one inside Fuck you now Ok, one inside, one in the back Weak Watch, 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 watch Got him Traded Where's the other? Both sides, I think Both sides, both sides I'm pushing Come back to mid, I think Made his mid I got him One more, one more, one more He's on the stairs, he's coming He's coming, he's coming He's coming Oh fuck I didn't think he was on the stairs Erega, you lost a bad deal Oh fucking hell I didn't think he was there, sorry No, I told you he was coming Fuck sake No problem Don't worry Let's go I'm gonna use the M8 And now try to pre-aim him really I don't know what to do Really Javed I don't know what to do Against these guys If you want You can watch the flank And I'll go mid No, 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 no Don't worry I'll try to pre-aim with M8 Ok, I'll watch over you then I was one shot, ok There's two mid No, no, no No, no I was one shot, no No, no, no I was one shot sta plantando nooo man middle downstairs ah you saw him you saw him behind you there behind the bomb oh i i i i i Scusate, non preoccupate, è il giro che si è passato dal mid, non so se si è passato dal mid, ma è morto Albe, come facciamo a guardare pure i mid? Abbiamo due lati, ce n'erano due al mid, comunque. Quando è quasi indietreggia? Oh, cerca di trovare una posizione da cui può guardare. Allora, dai. Sono cercato di usare i miei sniper, ok? Ragazzi, loro saranno uscire. Scusate, ci sono i miei spiagni, uno è i miei spiagni. Uno, due, due, uno più in B. Ok, ok, uno più in B. Sì, uno più in B. Uno, i miei spiagni. I miei spiagni. Sono venuti in atto. Non ho visto. È qualcuno dentro? Non, non, probabilmente sia nel corno. No, bro! Non è passato, merda! Non ho visto passare. No, il miocchio è in medio. Niedose, medio, medio. Sì, è in medio. Sì, è vero. è flankato? non credo che si può andare all'area è stupido se lo fa non lo farò mai TALENZBALL! HAHAHAHA Oh yeah HAHAHAHA HAHAHAHA You're retarded Come on guys Easy 1v2 boiiiiii Nice bro Good job I helped played him Fludge is real Uhhh Ok guys Just save it for the attack Ok guys Just focus on this round We need to win it Nice Geo watch the flank please Just kill the fucking A Wait just kill the fucking ACXD Kill him Oh fuck I've not got flank in here pick up Come on guys One was middle Try and get to mid if you can Cercadion dare middle Albert Ok go to middle I think they are inside B probably Yeah yeah Go away go away Ok one is inside B Another one I think they are here Ivan? Vai vai Ivan Ohhhh Ok Andata sinistra Albe Sinistra La Nooo Nooo Ok ACXD Behind you Daisy Behind you Behind you Behind you Behind you Behind you Ahhhh Ah my god I don't know what to do really Why am I on 3 bar Why am I on 3 bar? I don't know what to do really Ok ok I'm gonna follow it I'm gonna follow it Fuck We haven't lost it yet No 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 We got ult on an ACXD We can tie it I don't have E2A Fuck I got only 4 kills Let me get the bomb Let me get the bomb I have Don't worry Don't worry Don't worry Alright Stay alive Everybody wait Just wait Just wait Yeah Watch the top cliff Watch the top cliff Ok Ok I'm going now Somebody has to watch flank a second Yeah Qualcuno guardi il flank ragazzi Hey Behind the rock Behind the rock Behind the rock 50 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 So You can't do it Another thing Oh Why Okay Let's not move You can't move Top cliff e uno top right Oh, stia, non ho bisogno di prendere Tu puoi fare questo, eh? Credo in te Tu hai la fiducia in te Oh, stia Oh, mi chiedevo Oh, mi chiedevi con il cobra Come on, stai con noi Io, ragazzi, ero lì davanti con l'SMG Serviva che qualcuno avanzava con me Cioè, non posso stare così avanti da solo C'ero dietro perché aveva appena killato Ivan Eh, lo so, ma come fa Come fa quello lì ad uccidervi così, regà? È veloce, si affaccia C'è una bomba e se mi torna indietro Basta che lo premi come faceva Albe Che stava facendo bene Eh, no, io stavo lì, mirato, è uscito E c'ha una t-shot Che droga Vabbè, regà, non fa niente Let's go per le breach Fucking hell Dai, che la terza è stronghold con la nostra map Ok, drill I will run on AC And I have light left So they will think there will be only me on the left side So you can go out Yeah I will take the bomb Someone say P2 and watch the B rush Yeah So I'm on P2 Where do they rush? He has a B rush and a dos There's no body middle There might be bottom broken actually I'm watching P2 There's one here Yeah, I got him Fuck, he's so weak Fuck, he didn't die, man Watch pallet Back off, I need to get it I think that one is behind B Oh, he's here Where, where, where Here Oh man, I'm so weak I was already weak One is top bomb Bottom, bottom, bottom I'm broken Flower Flower One is top flower One is going to be back pallet I think Hey, guys, help me at the end To do it Hey, I'm going to challenge him a little bit No, help me at the end I'll check now He's weak He's weak I'm plenty, zombie Our side Stay behind, Ivan Vabbè, I'm dead Stay with me For at least, over Ah, weak tough, weak tough Nice The bomb is planted in the opposite side, bro Opposite? Okay, I'll have to see him Opposite, yeah Yeah, he's behind the bomb He's in? Yeah, I saw him Are you sure? Aha Yeah Not bad Don't worry It was the only way to plant it I couldn't if I tried to plant it in other ways In other places Okay Okay Questo qua, cercate di ammazzarlo in due, raga Quando spara uno, l'altro esce fuori In modo che così deve ricaricare No, in due ce la fate, oh Quando spara c'è un colpo su Eh, eh Beh, vedatevi Beh, vedatevi Beh, vedatevi I'm trying to go middle Eh, top flower I will play palace then Okay Nobody here Middle? Yeah, yeah They're middle No, they're gonna be They're gonna be They're gonna be Okay Okay There's one here He's pushing me I got one Uh, one P2 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 Anzi Yeah, middle Okay Nice call Nice pink Nice pic They have to push b Bro They're closed guys They're closed Could go ac geo I'm going, I'm AC One is here One will be bottom left I don't know He's here, got him Let's go boys I remember at EGL, I was the only person that was in the L-car That was really good It was so good Okay, uh... Let's try to middle again Get a bomb, get a bomb In top Okay, two people middle There are two Okay, one is here, one is here, middle One is here, one is here One is here, one is here Can you come to help me? He's here Okay, I'm going to slide, come here Okay, go, 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 I'm watching over Got him One top flower Watch out, watch out I got him, I got him Okay, one more middle, one more middle guys You can play the bomb No, 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 don't push it Okay One versus one Two versus one Stay together guys Stay together Don't split Eh, Jaffer Eh, Jaffer Eh, ma qui la bomba se no non la vediamo, capito Ok Così vi potete guardare Alberti può guardare la schiena Tu guarda verso sinistra magari Eh, non può Siete nella merda? Eh sì, eh, I know Tipo così Nice Sotto sotto Ok Nice Nice Stavo strisciando come i vermi Eh perchè non l'ho bombato E' un colpa andato a vuoto, capito Come on guys, we won the third map Ho un A6 di A6 di A6 C'è un palazzo C'è un palazzo C'è un palazzo Ho un palazzo Due palazzo Raga, certo che dovete scalare Ci stanno tutti qua Sento uno, lo sento qui, no? Chi è? Chi è? Si è andato in B 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 Io, il tuo host è lagging tanto Non lo so perché Credo che mi stanno cercando di buttare Che cazzo sono? B, B No uno è qui, palazzo Ora mi pushano Raga, bisogna una mano, veloci Arrivo Buongiorno 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 Non so perché è lagging, ragazzi Credo che mi stanno cercando di buttare Per sicuro Non è lagging Non è lagging Stanno giungendo tu? Stanno giungendo 300, 358 di ping Stanno giungendo eh No Non ora Si si, ok E ora è normale Stanno normali Stanno normali E ora è normale E ora è normale E bene la Gilcam è sempre normale Ma sto salendo Ragazzi, non so perché è lagging Non so perché è lagging Ah che adesso non so E ora è normale 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 400 di ping Stando giungendo Stando giungendo Stando giungendo Stando giungendo L'hai 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 Leccesi L'hai Non lo canna Stando giungendo Buongiorno Bene Placchi Placchi Voi here Sì È fuori È fuori È fuori È fuori È fuori Miro ho l'ho non lo so perché è lagging 1 tac 1 tac jay hai 1 bar? io credo che hanno cercato di buttare tutti noi 1 tac? fantastico chi ha detto 1 tac? ho un altro a6d io lo uso ora o per la prossima ho un altro a6d eeeh io credo che usare per l'offense 1 tac i sti in east e sti in c sti in B no, è un altro a2 1 shot 1 shot in B sti in flower sti in flower 2 shot in B 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 F*** 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 io ero così vicino a farlo io ero così vicino a farlo che f*** guarda 4x2 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 5x2 Uno è qui, uno è qui, è davvero fuori in fronte di voi Si è piuttosto, si è piuttosto Io andrò la crossa Trovi qui, trovi qui, ti direi se ti è piuttosto Ivan non puoi venire da là penso Sì, muonci ... Una ho piuttosto, una ho piuttosto Puoi andartene via Ivan, ti dice lui se ti è piuttosto Ok, ora sulla bomba, ora sulla bomba, prima, bravo Ivan, un shot, bravo, 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 bravo. Un shot, credo. Si, si, un shot. Come on, ragazzi. Invincible Cobra, 1-6. Let's go, ragazzi. I'm gonna trash wall the middle. Suck my Cobra. One middle, I'm so weak, ragazzi. They're pushing me, they're pushing me. I'm gonna run away. Fuck. Oh, fuck. They're mid, they're mid. No, they're up, they're up, they're up. They're up, they're up, they're up, they're up, they're up. Let's go, let's go, let's go. No, no, I'm dead. Yeah. Help me! Oh, man. No, middle, 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 middle. Nice. Watch out, watch out, watch out. No, guardabee, 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 guardabee. One shot, one shot. One shot be in. There's one here at the left. One is here, one is here, drill. One more, one more, drill. Oh, it's glitched out, B-bomb. Behind you, behind you, Ivan! Stay, stay, stay. Sorry, you're sorry, man. Oh! Oh, good. Oh, man, that shot. One, one. One, one. Come on. Come on, guys. Now we have to play strong gold, so you can do it, guys. Come on, guys. You can do it! Come back, is where I have to go. Oh! Let's go, boys! Okay, now we have to focus, focus. Good job, guys. Good job, good job. che f*** è questo? che f*** è questo? Oh Wannabe the very best No one ever wants Do 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 Na 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 Pication is my real death To train them is my boss Lama mon WTF Lama will travel across the land That's all the truth A lama will pull them through You teach me and I teach you Lama You teach me and I teach you Your voice is beautiful What? Drill Drill Britain's good talent For God Ok Come on guys Albe, let's do something up Sparco the ass Can you check middle If someone jumps from middle to To the Ok, I'm trying to do it Someone You know a bottom mansion on the couch One is here, one is coming here They're coming here Oh God, oh my God, I melted him I totally melted him They're pushing B They're pushing A They're pushing A Sorry They're pushing B They're pushing A Yep He jumped down He jumped Toward Oh my God Maybe he's going B Bro, I don't know what to check really Oh Fuck, he's behind me Wait, kitchen, kitchen, he's jumping out Do you have to plan? Frame bro, they can hear you Oh what the fuck Fuck you Ma come t'hanno ucciso Ivan? Stavano in lead glitch Ma non ci sta in quel lead glitch, è il posto più sputtanato del mondo E' normale che se c'è sta uno lo killano Uh, I'm checking mid, I'm checking mid now Ok, yeah Allora You're checking mid? Ok I'm gonna get the bomb, ok? Should we go left side? Yeah, yeah I'm gonna left side with you Give me the bomb Ok One is here One is here He's pushing out He's pushing out I'm watching top bedroom? Mhm Top? He's on, yeah, now he's on the right corner Oh man Ditching one blitz? Yeah, I'm watching top Oh man, don't go like this Ohhhh Top bedroom blended heads in the suit Sorry, got him I jumped out No, fuck Preso, preso Nice Ok, one is kitchen One is kitchen Oh, one shot Verra BB Si, diadro BB Diadro easy press 18 Easy press, easy press E ora che ci trovo O lo pusho o scappi Lo pusho No, no, no Mentre una cosa era il trophy Mhm Un'altra volta, move into the safe Ok, ok Ho visto quella cosa rossa e ho come icebreaker Mi sembra essere sbagliato Porca m***e Bomba n***e Vado io giù Vado io sotto Sotto a Ok. Ok. Ivan, vado sotto se tu vuoi... Boh, dite voi dove andare, non lo so io. Ivan... Ivan, tu che vuoi fare? Boh, io ero perchè qui vado sempre in B, però vabbè, se ci sta lui vado in A. Vado in A. Vado in A. Vado in A. Vieni, vai dietro al tavolo, tirati un trophy, metti di anti-skedge. Stai dietro al tavolo, stai dietro al tavolo. Ok, hang on kitchen, so. Se c'è problemi, Ivan, scappa verso kitchen. Ok, uno è qui. Ok, uno è far right. Oh man, they're trying to get me. Trenetro è morto, sono io. Uh huh, uno è top bedroom. Ivan, dammi la mano. Ho uno. Uno è top, uno è top. Uno è in A, uno è in A. Uno è in A, uno è in A. Uno è top, uno è top. C'è l'altro è sotto, l'altro è sotto. Un attimo, uno è sotto. Ora si dietro giù. Ah, spawn. Sì, kitchen, 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 kitchen! C'era kitchen. Oh, what the fuck? Kitchen, kitchen, kitchen. Wick, one shot. One shot. Nice. Ok, ok, ok. Nice. Oh mio Dio, ho fatto quella ghilla illegalissima eh. Oh mio Dio, ho fatto una ghilla illegale. Nice, javed. Oh mio Dio, ho fatto una truffa in questo round. Posso usare una truffa. Poi usare una truffa. Poi, hanno due persone, top bedroom. Sì, non ho fatto una truffa. Non ho fatto una truffa, non ho fatto una truffa. Ok. Uh, sì, hanno sentito 3 mansions. Sì, 3 mansions, 1 B. Ok. Un rush, left side. Ok. Sì, sì, è pushing. Nice. Just wait, just wait, Albe. Albe, wait, wait, wait. Let me use my stuns. We can make a play on B. Wait. I'm gonna stun, top bedroom. Go, push, 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 Albe. One in bunker, one in bunker. Ah, one in bunker. Non lo pushare, Ivan. No, non lo pushare, non lo pushare. Vai, Albe, 3, no. No, ma non eri con me. Oh, ho scappato. Sì, 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 Stralby. Nessuno si mette là. Ah, finita, cazzo. Eh... Merda. Ivan, non pushare le persone, però. Non l'ho pushato, Giossat e Bono. No, ma è stata colpa mia, perché stai appassando il cambio della mondezza e ho cercato di chiuderla. Vabbè, non è finita. Sto cercando di chiuderla la finestra e mi sono distattamente a chiudere poi la finestra, colpa mia. Sì, 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 Sì. Ok, ci vediamo. Si, sono tutti guardate le persone. Qualcuno. Vabbè, vabbè, vabbè. Scuola per i kills. Sì. Ah... Sì, la guerra all'cornero. Anche lui si affaccia dall'head glitch. Anche lui ha un head glitch. No, Ivan, vabbè, niente. È una posizione dove mettersi. Non ti si può vedere da là. Vieni con me sopra? Ok, ok, let's go. Ho rimesso il trofeo, ho rimesso il trofeo. Ok, 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 ok. Mi metto nel corner l'ama stavolta. Nice. Sei sopra, qui? Sì, stanno pushando. Un shot, un shot, dietro la roccia. Dietro la roccia. Dietro la roccia, dietro la roccia. Ho uno, c'è un altro. Stanno pushando a me. La bomba è in top bedroom. Hcxd da lì. Sotto, è sotto. Sotto, è sotto. Forse va a aver subito. Sotto, è sotto. Sotto, è sotto. È distrutto, è distrutto. È saltata via. Sotto. Sotto. Un shot, un shot, un shot. Sotto. Sotto. Stanno pushando a me. Uno sotto. Forse è entrata al mezzo. Stanno pushando a mezzo. Ragazzi, bisogna cercare B. Oh, un top bedroom! Top bedroom! Stanno dietro. Dietro la bomba, dietro la bomba. I got one! There's one more! Behind you, behind you drill! He went behind you. Nice! Nice, nice, nice. Good, good, good. Come on, guys. Not over yet. Nice, that was a nice round. Man, I had to use seat wave. Oh. I got overdrive. Okay. Wanna try, wanna push B? Okay. Yeah, yeah. Okay. Do you want me to take the bomb? Yeah, yeah, yeah. Use it. No, 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 no. No, I'm gonna take it, I'm gonna take it, I'm gonna follow you. Guys, come on, we need to follow him. B-B-B-B-B one is behind the B-bomb. Weak one shot. Okay, nice. Behind you, behind you, llama. A-60? Eh, one other, eh, is... One is here, middle. He's pushing me, guys. He's pushing me. Stand. Middle, middle. He's pushing, he's pushing middle. Ah, shit, yeah. A-60, you zombie. ce ne sono due qua Ivan uno quello che hai visto e l'altro l'altro vai su ad al wall run sono pazzi 4-3 l'abberg 4-3 4-3 io vediamo che Siamo arrivati ora Eh, Gio, mi sei che sto sotto l'entrata mid Lì, nell'angolino dove ci sono le piantine, ma ne sto dicendo che non mi aspetta Sicuro? Non ti conviene stare dietro il... dietro il... cosa? Le scale Guys, they're gonna push us now Per quanto entrano, non riusciamo a organizzarci bene Aspetta un attimo, prima non c'è troppi su qui Ah, fucking hell, he got me Two people far right, two people far right Two people One push top bedroom Nice, go away, go One more, one more, one more Nice Stay together, nice Three versus one, three versus one Right, kitchen, kitchen, kitchen Nice, guys, good job, guys Good job Ok We need to wait a little bit more, I think Yeah, yeah When we're in offense Nice, guys I don't know if he was, uh, my M8 My, uh, my, uh, survivor Uh, uh, uh We're gonna melt, I'll check mid, I'll check mid Ok I'm gonna go left side then Ok, I'm gonna help you left side Yeah I have a camo, so I might try and make it clear I have side closes One shot, uh, no Oh, one is here on the head glitch Yeah, 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 yeah Cover me No, they really went away Yeah, I, I needed, like Need to split attack One top, one top, one top Might be in the corner, actually Yeah, 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 he's here He's probably in the right corner He's probably in the right corner No? Wait, I'm just... Even he's flanking Oh, one shot One, one is here, one is here for left Ok, nice, 3v2 Top bedroom, top bedroom I'm back off, let's back off all the way around But we've got to be fast We're gonna go back We're gonna go back He says he's flanking Attention Go in bunk and go around If you can, as fast as you can Bunker, bunker I'm behind me I'm watching over you Just flanking, 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 flanking Ok, ok, ok Ok, ok You've got to watch that You have to watch that Yeah, yeah Oh, there's a bedroom You've got to push him, push him, push him Challenge him One other, one other from there Where did you get the kill? No, my God! Nooo Mm, 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 mm Peccato I got the 60 Nooo Not yet Ok, let's win this Then I will use my A6 in the offence side Offence or defence? In offence, now let's win Ok, let's try and win this Come on guys, we have to win this Yeah, we have to win this Come on, let's focus Uh, il trophy Albe? Me lo metti? Si, si Metto sub distance Lo metto il torno indietro sotto Ok Ok, ah, guys I will try to make a play in top bedrooms Thing in a corner And try to wait them to jump, ok? It would be really hard Ok, one is your turn Let's draw, bombe mid, bombe mid I'm under the loro Ah, one has seen me from the... Jump I can take it from behind There's no one Here's no one I can take it from the stairs Good, good, good Alright, got him Go away, go away, guys We've got the kill We've got the kill We've got the kill We've got the kill They're gonna push me They're gonna push me One shot, one shot Wait, wait, don't No no no, Albino Ok, bravo Ok, they use psychosis They use psychosis Noi non... Letta posa una bomba Isto qualcuno in B? Is there? Abbiamo! Ok, ho un overdrive e un A60 Usa l'A6D Usa l'A6D Cosa vuoi usare l'A6D? Io ando all'interno Prendi le informazioni Prendi le informazioni Non cercare di correre gli addosso perchè se l'aspettano per ucciderla Prendi le informazioni li devi spaventare Sì, vieni ragazzi Just make the place you two I'm gonna take the bomb I'm gonna follow l'A6D Iman, Iman vieni con me Middle There's someone middle Guys, maybe they're flanking us Bedroom, bedroom Bedroom Come on I'm top guys Let's just play pick One behind table Behind the A bomb Behind the A bomb I got one Two more, two more, two more kitchen Two more kitchen Go away, go away I got an E wave Do you want to come with me? I'm already in there I'm almost there Oh my god Got one It's an E, 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 E Corre dietro la bomba Corre dietro la bomba Behind A bomb On bullet, on bullet, on bullet, on bullet, on bullet You got a challenge On bullet One bullet, on bullet One bullet, on bullet Two more bullets Eh, dietro la Lambo Guarda qui Puntala, mezzo come on guys i got overdrive i don't know if you use it or not i don't know we need guys to play to make a play we need to make a play do you want to push out everybody push out A what do you think tell me want to push A oh no 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 picks? ok let's play picks they bring their picks they're camping they're camping they're waiting Ivan guardami B oh man i'm dead i'm dead one behind the couch nice 3v3 no wait 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 he's behind B one is behind the couch one is behind the couch guys remember one is behind the couch he's behind the chairs and one is on your left great he's behind the chairs go Ivan go Ivan let's go Ivan come on let's go let's fucking go boys money team let's go boys let's go that was insane guys good guys I fucking gave the first block nice guys nice guys I think I'm going to go to the bedroom no I think I'm going to the bedroom that was too much for me guys my heart is killing you know what I'm having a heart attack because I died I knew it was my fault if we were going to lose the 11th round I was like okay it's my fault I died I shouldn't do that shit challenge oh man thank you I see you I see you you I see you and